Da dove venite? Da Piazzano! E che fate qui? Si divertivo, è il tuo lomba a Nistro, guarda, guarda come si divertivo. Ma come si svolge la serata? Più lavuta e più stai meglio. Più bevi e più stai bene. Noi le mausa, noi siamo meglio. Questo è il mio cugino. È il maresciallo. No, a me non dimo le lavuta. Non dimo di dove. Ma è che Piazzano! No, basta che non si diceva. Allora, ma insomma, come viene organizzata? Viene organizzata, che ognuno arriva per affari suoi, organizza e se c'è più morta, sicuramente come vuoi vedere, tutta la giornata è tutta morta. Ognuno è morta, le sue sue punte, le 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 sue punte e le sue punte. Quindi, insomma, si è bello. Salute, maresciallo! Però, però, alla sera dormite qui, no? Sì, sì. Ecco, quindi non ritornate, non andare. Se andiamo a casa, c'è il papo, la mamma, il dondo, le mamme che si trompano. E lì l'alcol fa male? È lì che fa male l'alcol. È lì che fa male. Perché? Prima? No, no, ma che cosa va male? No, non vanno a fare giornale queste cose, eh, però. Sì, sì, li mandano nel no. Mi vale, guarda. A TG1, la Pai! E che è l'alcolare? Se andiamo in comprensione. Come sarà la vittoria? Come sarà la vittoria? Asca, no! Asca! Noi non siamo napoletani! Noi non siamo napoletani!